Grazie a tutti. Tanti fedeli in processione. Andiamo a vedere più nel dettaglio la messa presieduta dal nuovo vescovo di San Marino, Montefeltro, Monsignor Beneventi, il ricordo del miracolo eucaristico di Sant'Antonio, la processione dietro l'eucaristia, un popolo in cammino, quello che nella serata di giovedì ha partecipato alla solene celebrazione del Corpus Domini. In piazza Cavour, cuore della Civis, il vescovo di Rimini, Monsignor Nicolò Anselmi, ha sostato per un momento di preghiera silenziosa davanti al Santissimo Sacramento, posizionato sulla scalinata della Rengo e ha poi pronunciato il discorso alla città. Ha parlato delle divisioni che dilaniano il mondo e i cuori. Ha chiesto ai fedeli di poggiare il cammino sulla solida roccia di Gesù. Uno dei doni e delle bellezze di Rimini di tutto il litorale romagnolo è la sabbia. Ma in questo caso abbiamo bisogno della roccia, che il Signore, la Sua parola, e diventa roccia quando la mettiamo in pratica. Ha invitato a vivere una nuova quaresima, tempo forte dello spirito, con una certezza. Sono convinto che presto arriverà la risurrezione, arriverà la pace perché il Signore è con noi, come è stato con noi in questo percorso che stasera ci ha condotto dalla cattedrale a piazza Cavour. E presto verrà la pace per noi, per le nostre famiglie, per la città, per il mondo intero. Grazie a tutti di essere qui e grazie a Monsignor Domenico Beneventi, Vescovo di San Marino Montefeltro. Siamo nel cuore della nostra città, il cuore civile e artistico, il comune e il teatro Galli, dopo essere partiti dalla Basilica Cattedrale, che è il cuore della nostra chiesa riminese. Riprendendo una riflessione già proposta in occasione della festa di San Gaudenzo, in cui invitavo tutti all'unità alla preghiera, non posso non notare come stiamo attraversando un periodo non facile della storia, perché le tensioni in Russia e Ucraina coinvolgono di fatto tutto il mondo e anche le enormi difficoltà in Terra Santa sconvolgono tutti. Sappiamo inoltre che anche tra noi in Italia, nella nostra diocesi, stiamo attraversando cambiamenti belli e sfidanti, ma anche altri molto meno belli. La società sta cambiando, stanno arrivando e sono già arrivati tante sorelle e fratelli da altre parti del pianeta. Contemporaneamente i dati Istat sulla povertà indicano come in Italia circa l'8,7% delle famiglie, cioè 5,7 milioni di italiani, vivono in una situazione di povertà assoluta senza riuscire ad accedere ai servizi fondamentali per una vita dignitosa. Tra questi fratelli in difficoltà ci sono 1,3 milioni di minorenni. Per non dire di difficoltà di altro ordine, lavorativo, affettivo, spirituale, si respira dunque un'area di fatica, tante volte di tensioni che poi dividono persone, famiglie, quartieri, città, nazioni. Il maligno in tutto ciò fa la sua parte, lui che biblicamente è il grande divisore e ne vediamo quotidianamente la sua azione malvagia. Tuttavia sono qui a dirvi che non dobbiamo spaventarci perché il Signore è con noi. Lo abbiamo portato con noi questa sera sulle nostre strade e anche quando la tempesta è in furia, come abbiamo cantato, lui è sulla nostra barca. Da credenti dobbiamo essere un segno di speranza e dare sicurezza a tutti che la storia e la vita delle persone e di ogni persona sono nelle mani di Dio. In questo benevolo disegno siamo tutti invitati a fare la nostra parte. A questo proposito mi permetto di dire che in questo tempo siamo tutti chiamati a vivere una più intensa vita cristiana. Se il vento soffia forte, noi dobbiamo essere più radicati. Uno dei doni e delle bellezze di Rimini di tutto il litorale romagnolo è la sabbia, ma in questo caso abbiamo bisogno della roccia, che il Signore è la sua parola e diventa roccia quando la mettiamo in pratica. Essere dunque più radicati in Gesù, essere una sola cosa con Gesù, fondarci sulla forza dello spirito. Cambiamo decisamente argomento. Maltrattamenti alla fidanzata Rampolo Riminese finisce a processo. Per lui nuovi guai giudiziari. Nuovi guai giudiziari per un 39enne appartenente ad una nota, estimata famiglia riminese, rinviata a giudizio il 9 maggio scorso dal GUP di Rimini Raffaele De Florio per i maltrattamenti nei confronti dell'ex fidanzata. Il prossimo 10 luglio, quindi, difeso dall'avvocato Piero Ippoliti Martini, dovrà comparire davanti al Tribunale monocratico di Rimini, per l'inizio del processo. Era stato il padre della loro fidanzata del Rampolo Riminese a presentarsi in Equestura Rimini nella primavera del 2022 per denunciare le percosse e le umiliazioni che la figlia era costretta a subire. Lei, infatti, era troppo innamorata per inguagliare il suo compagno, come disse ad una passante che nell'estate del 2021 la soccorse in strada dopo che il 39enne, durante una lite iniziata al ristorante, l'aveva colpita con violenti schiaffi al volto. Dalle indagini della squadra mobile, coordinate dal sostituto procuratore Davide Ercolani, erano emerse una serie di aggressioni fisiche e psicologiche dettate anche dall'abuso di alcol e droghe. Condotte violente che nel giugno del 2022 avevano spinto il GIP di Rimini, Vinicio Canterini, ad emettere nei suoi confronti una misura di custodia cautelare in carcere. Un'indole violenta, quella del 39enne riminese, già restato in passato per altre vicende, confermata anche da una precedente sua ex convivente. La donna all'epoca raccontò agli investigatori di aver subito aggressioni quando scoprì di essere rimasta incinta. Lui avrebbe cercato inutilmente di convincerela ad abortire e proprio per l'iscalfibile convinzione della donna nel voler portare a termine la gravidanza l'avrebbe percossa con calci diretti alla pancia e alla schiena. Il 39enne nel corso dell'interrogatorio di garanzia aveva ridimensionato l'accusa a suo carico parlando di un rapporto burrascoso e negando di aver percosso la finanzata. Ospiti non registrati e pregiudicati tra i clienti, albergatrice denunciata per i controlli delle interforze a Rimini Sud. Controlli interforze dietro alla cabina di regia della prefettura, negli alberghi di Rimini, soprattutto nei confronti delle piccole strutture ricettive situate nella zona sud che spesso diventano alloggi per irregolari e pregiudicati. Ieri mattina, in un 2 Stelle di Bella Riva, polizie di Stato, carabinieri, polizia locale e guardie di finanza sono intervenuti per verificare il rispetto delle norme sulla registrazione degli alloggiati. All'interno dell'albergo, gestito da una quarantena italiana, c'erano alcuni pregiudicati. Uno di questi era destinatario di un provvedimento speciale di pubblica sorveglianza emesso dal Tribunale di Ravenna. Condotti in questura per essere identificati anche cinque stranieri sprovvisti di documenti, nei confronti dei quali sono in corso le valutazioni sulla loro regolarità sul territorio nazionale. L'albergatrice, che non ha comunicato i dati di alcuni alloggiati alla questura di Rimini, verrà denunciata per violazione dell'articolo 109 del TULPS. Una settimana fa, la divisione amministrativa della questura di Rimini, nell'ambito di analoghi controlli, aveva chiuso per un mese un hotel di Miramare ritenuto pericoloso per l'ordine e la sicurezza pubblica. Il prefetto di Rimini, Rosa Maria Padovano, ha spiegato che questi controlli hanno lo scopo di vegliare sulla sicurezza dell'offerta turistica riminese. La petizione del supercomitato, mille firme per chiedere al comune più dialogo, è stato consegnato il documento. In merito vediamo il nostro servizio. Il coordinamento che riunisce otto tra i più attivi comitati riminesi, cartelli alla mano, ha manifestato nel pomeriggio davanti all'ingresso del comune. C'erano i rappresentanti di Visergo a punto e a capo e del comitato Arione Clodio, chi si batte contro la variante alla strada alle 16, chi per l'ambiente di Rivabella e contro il degrado alla ex Questura. E poi ancora i comitati del Borgo San Giuliano, del quartiere Padulli, di Borgo Marina e del quartiere 5. Zone diverse della città, ma un'unica voce per quella che non è stata solo una semplice mobilitazione, ma anche un gesto concreto. La consegna cartacea all'amministrazione, dopo la notifica online, di una petizione con un migliaio di firme. Nel documento, nero su bianco, alcune richieste comuni. Noi chiediamo di essere ascoltati, di presentare le nostre proposte, di avere un dialogo con l'amministrazione, di fare in modo che i progetti e gli interventi che l'amministrazione porta avanti non vengano presentati ad appalto compiuto. Poi ci sono delle tematiche importanti, come quella, per esempio, del verde. Rimini è una città che ha necessità, più di tante altre città, di aumentare il verde, non di ridurre. Invece vediamo che, al contrario, questo verde viene diminuito. Un esempio è la realizzazione della piscina di Viserba dentro un parco. Chiediamo a questo punto al Comune di allargare e di acquisire dell'altra area verde limitrofa che esiste. Faccio un altro esempio. Rivabella, l'unica area ancora non edificata, è stato deliberato di costruire un centinaio di appartamenti in quella zona già densamente edificata. C'è il tema della Statale 16, che è un nastro di cemento, di asfalto, che va sull'area pregiata verde del nostro territorio agricolo. Poi ci sono altre situazioni, come per esempio nel centro storico, Rione Clodio, situazioni dove il traffico, dove passa una circolazione dentro il centro storico. Questa è la primissima iniziativa che facciamo. Siamo molto coesi, perché siamo convinti che abbiamo, come dire, la necessità, se vogliamo anche la ragione, di essere considerati dall'amministrazione comunale, perché rappresentiamo un gran parte dei cittadini che hanno anche votato questa amministrazione comunale. Viveva nella Casa Popolare con un ISEE da quasi 200 mila euro. Provvedimenti di decadenza non è stato questo l'unico. Una buona notizia per le migliaia di persone in attese di un alloggio popolare sull'albo pretorio delle comune di Rimini. Sono stati pubblicati, infatti, in questi giorni, sei provvedimenti di decadenza di nuclei familiari che hanno superato i valori previsti per accedere all'edilizia residenziale pubblica. Un ISEE non superiore a 24.400,26 euro ed un patrimonio mobiliare non superiore a 47.784 euro. Tra i sei provvedimenti, però, ne balza gli occhi uno in particolare. Un nucleo familiare che da luglio del 2012 beneficia di un alloggio è risultato avere un ISEE di 185.258 euro, quasi quattro volte il limite, e un patrimonio mobiliare di ben 1,8 milioni che, ricalcolato in base ai parametri previsti, si abbassa ad 804.547. Valori decisamente fuori scala per giustificare un affitto di circa 110 euro. Questo, infatti, il canone medio in provincia per un alloggio ERP. Chissà cosa ne penseranno gli oltre 3.300 cittadini liminesi iscritti nelle liste delle liste residenziale pubblica che attendono da anni di poter entrare in uno dei 2.200 alloggi a disposizione in provincia. I nuclei che hanno ricevuto il provvedimento di decadenza hanno comunque un anno di tempo per rilasciare l'appartamento. Rinforzi estivi, 80 poliziotti in più. SAP, il sindacato di polizia, dice ci piacerebbe vedere altri numeri. Ovviamente i rinforzi saranno da luglio a settembre. Il nostro servizio. Saranno 80 gli operatori di rinforzo per la polizia di stato della provincia di Rimini, di cui 6 per la polizia ferroviaria, 8 per quella stradale. Resteranno sul territorio dal 1 luglio al 1 settembre. È quanto prevede il piano di potenziamento emanato dal Ministero dell'Interno, che vede Rimini al primo posto in Italia come numero di personale aggiuntivo. Dal sindacato autonomo di polizia, il SAP, viene evidenziato come siano ormai passati i tempi in cui i numeri erano a tre cifre, con apertura in pianta stabile di uffici distaccati a Riccione e Bellaria, che dal 2021, invece, in virtù di una circolare ministeriale, non vengono più attivati, costringendo l'amministrazione a trovare soluzioni diverse. Il sindacato ricorda poi che il territorio è anche in attesa dei trasferimenti del personale permanente con un potenziamento di 17 unità, anche se una parte proveniente dal corso di formazione e quindi non subito operativa. Proprio oggi, intanto, i 27 sindaci della provincia di Rimini hanno inviato una lettera al governo per chiedere un adeguamento delle dotazioni organiche ordinarie delle forze dell'ordine e per garantire in tempi rapidissimi al territorio, già dall'avvio della stagione estiva, le unità assegnate nel passato. Ricordando poi una provincia di 350.000 abitanti, ma con ben 16 milioni di presenze ogni anno, i sindaci lanciano la proposta di rendere permanenti i presidi estivi e le risorse assegnate. Analoga missiva, era stata inviata già lo scorso anno. Una sala del comando delle fiamme gialle intitolata al tenente colonnello Roberto Russo scomparso a novembre. Si è svolta mercoledì 29 maggio alla sede del comando provinciale della Guardia di Finanza di Rimini la cerimonia di intitolazione della sala briefing e conferenze alla memoria del tenente colonnello Roberto Russo, già comandante del nucleo di polizia economico-finanziare di Rimini, tragicamente scomparso lo scorso 25 novembre a soli 40 anni per un malore in mare. Alla cerimonia erano presenti i familiari del compianto ufficiale, il comandante regionale Mila Romagna, generale di divisione Ivano Maccani, il prefetto e il sindaco di Rimini, oltre alle altre autorità cittadine, civili e militari e ai collaboratori di ogni ordine grado che hanno condiviso con l'ufficio superiore momenti professionali e personali. ZTL Nord da sabato tutti i giorni H24 salvo tre vie solo serali. Andiamo a vedere più nel dettaglio visto che si parte da domani, sabato primo giugno, la ZTL di Rimini Nord lungo il Parco del Mare tra Rivabella e Torre Pedrera sarà attiva sette giorni su sette fino alla seconda domenica di settembre. Entra in funzione la zona traffico limitato anche tra via Sante Polazze via Palotta-Viserba, così come sarà nuovamente attivata la corsia preferenziale tra le vie Palotta e Sante Polazze in direzione Ravenna. Nella zona compresa tra viale 25 marzo 1831 e viale Palotta compresa la ZTL è sospesa per tutto il 2024. Tutti i varchi funzionano 24 ore su 24 eccetto i varchi di via Sante Polazze, via Boito e via Borghesi per i quali l'orario di funzionamento è dalle 20 alle 24. L'attivazione delle telecamere è evidenziata dai pannelli a messaggio variabile che negli orari di funzionamento dei varchi avranno la scritta ZTL attiva di colore rosso. Tutti coloro che accederanno alla ZTL senza autorizzazione saranno dunque automaticamente sanzionati. Al via il diciottesimo Rimini Wellness, 28 padiglioni, 300 brand e 2000 ore di allenamento. Si va dal 30 maggio, quindi siamo già partiti, fino al 2 giugno. Il servizio. 2000 ore di allenamenti, 28 padiglioni occupati, oltre 300 brand espositori divisi in sei aree tematiche. Fino a domenica 2 giugno Rimini Wellness è pronta a far divertire, sudare, sperimentare nuove discipline. Diversi anche gli incontri di approfondimento che si svolgeranno in questi giorni a partire dagli stati generali del fitness e del wellness. Confermato anche quest'anno il programma del fuorisalone di Rimini Wellness Off con 240 tra allenamenti, incontri ed eventi sul territorio. L'edizione dei 18 anni è anche l'occasione per ricordare la svolta della sfida accettata nel 2006, quella di andare avanti senza più il marchio del Festival del Fitness. Abbiamo aggiunto tutte quelle attività oristiche, quelle da parte d'Occano, che hanno reso poi questa fantastica una sempre attuale, a parte d'Occano, a parte d'Occano, e oggi con l'edizione 2024 portiamo di fare veramente il record che ci fa superare per fine i risultati che avevamo prodotti nel periodo pre-tante anni. Andiamo a vedere le condizioni del traffico partendo da quella autostradale. Non ci sono segnalazioni particolari nel tratto che ci riguarda più di vicino, quello tra Bologna ed Ancona. Andiamo a vedere allora come procede il traffico sulle arterie del Riminese. Vediamo qualche zona di traffico piuttosto intenso in questo momento lungo alcuni brevi tratti della Statale 16 e nella zona di Santa Giustina all'altezza dell'impianto semaforico. Andiamo a chiudere con le previsioni del tempo partendo dallo stato del tempo sulla nostra regione. Nuvolosità variabile con precipitazione e carattere temporalesca anche di forte intensità. I fenomeni interesseranno il settore centro-occidentale tra le prime ore della notte e la mattina, mentre dalla tarda mattinata tenderanno a trasferirsi sul settore centro-orientale della regione. Progressivi rasseneramenti dal tardo pomeriggio con cielo sereno in serata. Temperature minime in lievamento con valori tra 15 e 17 gradi, massime in aumento sulla Romagna con valori attorno a 26-27 gradi, pressoché stazionari altrove con valori attorno a 23-24 gradi. Le temperature potranno calare sensibilmente e rapidamente in seguito ai passaggi temporaleschi. Venti deboli occidentali in pianura, moderate da sud-ovest e sui rilievi, rinforze raffiche nelle aree interessate dai temporali. Mare poco mosso, sotto costa, mosso a largo. E con il meteo si conclude il nostro appuntamento con informazione, ma tra poco c'è temporale, per cui vi auguro una buona giornata. Grazie a tutti.